Eccoci qui ragazzi allora, benvenuti in questo nuovo video in cui cercherò di parlare in maniera semplice e chiara con tutti quei tifosi che in questo momento se la stanno prendendo a morte con Nicolo Zaniolo in merito a un episodio che è accaduto ieri sera nell'amichevole contro il Bilbao. Cosa è successo? Al novantesimo minuto circa, su un'azione concitata in area di rigore, Zaniolo ha preso la palla con il braccio. Un'azione molto convulsa perché lui voleva colpire con la gamba, la palla è andata a finire sul braccio e visto che il movimento è stato molto veloce, l'arbitro è stato tratto in inganno. Ha dato il rigore alla Roma, ovviamente inesistente, con i giocatori avversari che si sono incazzati manco fossimo in finale di Champions e vi dico la verità mi ha un po' fatto strana una reazione del genere perché puoi avere ragione ma finanziare, cioè nel senso, calmati, ci puoi aver sbagliato ma parliamo comunque di minamichevole, ma detto questo e a Zaniolo è stato chiesto sia dai giocatori che dall'arbitro se avesse preso la palla con la mano e il giocatore invece ha o negato o comunque risposto in maniera un po' da coglione, con parole povere. Fatto sta che poi è stato dato il rigore, la partita è finita 2-2 e tante salute e buonanotte ai giocatori. Successivamente Zaniolo si è scusato sui social per l'episodio dicendo che non si era accorto di aver preso la palla con la mano non so quanto possa essere vero ma comunque che si scusa con i giocatori avversari e con l'arbitro per essersi comportati in maniera inadeguata quando appunto gli hanno chiesto se avesse preso la palla con il braccio. Allora, io premetto prima di tutto una cosa, tanto questa è la classica frase che dico in ogni video. Non sono una persona che difenda a spada tratta qualsiasi giocatore della Roma, qualsiasi dirigente, solo perché sono della Roma. Cioè io penso di essere una persona che nel limite del possibile cerca sempre di essere coerente con quello che le persone fanno, nel senso che se un Totti fa una cosa per me può farla anche... cioè non è che il nome fa la differenza. Cioè per me se un gesto viene fatto in maniera sbagliata puoi essere Totti, puoi essere De Rossi, puoi essere Olsen ma io te lo faccio notare allo stesso modo. Poi magari per qualcuno non sarà così ma comunque io penso di essere in questo modo. E quindi non sono una persona che difende Zaniolo in questo momento perché io faccio il video in difesa sua ma non dico allo stesso tempo che ha fatto bene perché per me essendo puramente un amichevole gli avversari potevano prenderla più tranquillamente perché per quanto sia trattata di una svista è comunque un amichevole che non conta nulla. E ok. Seconda cosa lo stesso Zaniolo poteva essere più onesto alla fine cioè come per loro non contava niente non contava niente manco per noi. Poi magari effettivamente non si è accorto se qualcun altro l'aveva presa col braccio o meno. però se è vero che lui si era accorto e ha negato soltanto per prendersi il rigore sicuramente è un gesto che poteva risparmiarsi ecco perché comunque trattandosi di un amichevole potevamo anche perdere 2 a 1 non è che succedeva niente però comunque si sarebbe trattato di un episodio onesto come fece magari De Rossi non so se ricordate più di 10 anni fa quando segnò col braccio così e successivamente disse all'arbitro appunto che aveva segnato in questo modo. quindi il gesto si può anche discutere. Fatto sta però che io ho notato in maniera veramente palese un attaccamento vergognoso da parte non solo dei tifosi avversari ma soprattutto dei tifosi della Roma che mi fa capire quanto sia evidente che quanto siano a montagne russe le emozioni degli stessi tifosi. Un giocatore che fino allo scorso marzo era considerato un fenomeno l'erede di Totti, un nastro nascente eccetera eccetera adesso per ogni minima cosa viene massacrato non dagli avversari ma da noi stessi. Io non sto dicendo che bisognava dire ha fatto bene ma da qui a dire sei un pezzente, ti comporti da vergognoso non sei degno di vestire la maia della Roma fai schifo, cioè ma ragazzi ma veramente fate? Cioè la Juve ha avuto Buffon che ha detto palesemente in una partita se avessi visto la palla entrare non lo avrei detto all'arbitro e non penso che tutti i juventini lo hanno attaccato come stiamo attaccando Zagnolo ma vi rendete conto? Cioè il gesto può essere anche sbagliato ma troviamoci un po', cioè cerchiamo di essere un pochino calmi perché sono convinto e non lo dico perché voglio mandare avanti una crociata contro di loro ma se un gesto del genere l'avessero fatto ancora in carriera Totti o De Rossi, più Totti che De Rossi difficilmente avrei visto la stessa reazione ne sono convinto perché è così perché ormai Zagnolo adesso è nell'occhio del ciclone e non può sbagliare nulla che gli si viene fatto notare non una ma cento volte un conto è fargli notare l'errore e quello ci sta tranquillamente ma cercare di farlo pesare come se avesse ucciso qualcuno come se avesse rotto una gamba qualcuno perché ricordatevi che ieri sera io ero in diretta, l'ho vista i spagnoli sono stati di una fallosità in mane cioè uno di loro non so con quale nostro giocatore ma gli ha fatto un fallaccio prendendosi un rosso diretto e per me tra due comportamenti è molto peggio questo perché ha rischiato di far male a qualcuno piuttosto che un comportamento eticamente scorretto perché ok Zagnolo ha sbagliato ma basta cioè basta mandare crociate contro di lui per svenderlo, svalutarlo ragazzi voi dovete capire che Zagnolo in questo momento è un giocatore della Roma e per quanto si possono criticare per i loro comportamenti bisogna criticarli con la giusta mentalità perché noi tutti quanti adesso parliamo così perché ci sentiamo delusi perché c'eravamo illusi che verso marzo lui potesse essere l'erede di Totti ma la colpa è la nostra perché lui non ha mai detto che voleva essere l'erede di Totti che si sente un fenomeno eccetera eccetera siamo noi che abbiamo creduto che lui lo fosse in realtà è un buonissimo giocatore che deve giocare con calma senza la pressione di sentirsi sia i tifosi avversari che i propri contro dopo è normale che se ne va dopo se se ne va la colpa è della dirigenza la colpa è della dirigenza perché vende tutti vende tutti ma porca troia voi massacrate un giocatore nostro per ogni minimo errore che fa per ogni minimo errore sia sul campo che fuori e dopo vi lamentate se il giocatore dice no io non voglio restare qua ci credo che non voglio restare qua perché uno qua non si vince un cazzo e seconda cosa viene anche trattato male e con questo lo ripeto non voglio dargli ragione su tutto non è che sto dicendo che lui ha ragione ha sbagliato ma basta si tratta di un piccolo errore in un amichevole poteva dirglielo sì non l'ha detto pace che succede c'è un amichevole che tra tre giorni non si ricorderà più nessuno e dobbiamo massacrarlo per quello che ha fatto che schifo che vergogna che etica questo e quell'altro ragazzi e che pugnetta che siete veramente siete una palla le persone che si comportano così sono una palla perché vogliono solamente destabilizzare i giocatori dopo se dopo giocano ancora peggio e si lamentano e vogliono andarsene via hanno ragione perché ragazzi voi mi dite eh sì ma non puoi giocare male se ti parlano male cioè tu comunque sei un professionista sì sono professionisti ma sono anche esseri umani e fidatevi che giocare sempre con le pressioni dei tifosi avversari ma soprattutto soprattutto dei propri tifosi non è facile e parliamo di un giocatore 19enne che quest'anno farà 20 anni quindi è ancora moltiplicato cioè noi moltiplichiamo per 10 quello che per un giocatore 19enne è già moltiplicato per 10 quindi diventa proprio un'esternazione infinita è questo il problema dei tifosi della Roma che passano dall'amare a odiare un giocatore in pochi in pochissimo tempo cioè Kolarov adesso non mi viene un episodio non mi ha caso dopo il derby era dio dopo poche settimane per un periodo negativo perché aveva detto qualche frase inopportuna un pezzo di merda non si riesce a trovare una via di mezzo bisogna stare più tranquilli perché come per loro erano amichevoli lo era anche per noi quindi poteva dirlo sì non l'ha detto pace basta basta cioè cerchiamo di stare calmi perché se noi siamo i primi che quasi speriamo che questo giocatore faccia un errore per farglielo ritornare addosso più e più volte non si finisce più veramente io lo dico considerando comunque Zanello è un giocatore che deve migliorare dal punto di vista mentale ma comportandoci così non ci riusciremo perché passare dall'aver ragione all'aver torto è un attimo perché se tu gli fai notare l'errore è un conto se tu glielo fai pesare come se avessi ucciso qualcuno è un altro e passi in questo modo dalla parte del torto un saluto dal vostro lo galletitore giallorosso fatemi sapere con sotto nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo presto per un altro video ciao ragazzi grazie a tutti